Newslibri.it, blog di promozioni letterarie, presenta il giallo. Aracnidi e affidi di Fabrizio Zagarella. Pino Grigoli, nome composto evocando il nome del prete antimafia, Don Pino Puglisi, e il cognome del suo assassino, il killer di mafia Salvatore Grigoli, vero e proprio antieroe. Ripercorre mezzo secolo di vicende politiche e amministrazione nazionale del Novecento, col suo sguardo e la memoria di giovane avvocato da prima e poi di giudice onorario di un tribunale di provincia siciliana. Il giallo Aracnidi e affidi di Fabrizio Zagarella.